prendete i pennelli che andiamo a dipingere le cartoline di natale questa è arte per te arte per te ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su arte per te nuovo video per questo natale oggi faremo una semplicissima cartolina un po' retro per il nostro natale una cartolina dipinta da poter spedire useremo infatti il blocco fabbriano postcard ma basta parlare spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare ed eccoci pronti per creare le nostre cartoline per il natale delle cartoline da spedire ai nostri amici più cari per mandare all'interno di una cartolina già un regalo completo e allora che cosa useremo per queste cartoline? naturalmente il blocco cartoline della fabbriano con carta per acquerello queste carinissime postcard che possono essere dipinte da chi le possiede degli acrilici io userò gli acrylic master ferrario e gli acrylic satinati ferrario questi sono dei bellissimi colori ad effetto satinato e siccome voglio fare un soggetto natalizio un alberello nella fattispecie allora userò questi colori satinati non costano neanche tanto c'è qui il prezzo 4,50 in varie cartolerie poi per ravellimento userò craft 3d glitter della ferrario vi ho già insegnato anche come fare la pasta glitter lo metto qui dove c'era i col pallino se non doveste averli certo la luminescenza di questi è fantastica tutto questo che vedete sul tavolo di tutto questo non ho comprato niente mi hanno inviato tutte le aziende tra parentesi tranne la matita e lo scotch carta i pennelli userò dei pennelli della tintoretto e userò della linea tecniche miste il sintetico verde smeraldo e delle linee economiche credo che userò il sintetico ambra e il sintetico perla sono tutti numeri 16 comunque e poi 16 piatti e poi scotch carta, matita piattino per le mestiche bicchiere con l'acqua tovaglioni di carta e per scrivere la frase augurale mi avvarrò del brush del pentel acqua brush benissimo questo non è un video collaborazione con queste aziende nel senso che i video in cui vi parlavo di questi prodotti già in passato ve li ho fatti li trovate tutti qua nelle schede in realtà non vi ho fatto un video sui pennelli linea economica che credo possa essere molto interessante per non rinunciare alla qualità e avere comunque linee economiche se vi interessa lasciatemelo scritto che ve lo faccio al più presto e basta cominciamo subito che ne dite Natalia alle porte procuratevi una base in legno uso un tagliere che ho da sempre destinato ai lavoretti creativi e appicchiamo la nostra postcard su questa base in legno assicuriamola al supporto con un po' di scotch carta non in purezza prima passate un paio di volte le dita sopra per far diminuire il potere adesivo in modo che poi quando staccherete la cartolina non rimangano frange di carta sullo scotch mi avverrò anche di un righello perché comunque voglio fare un disegnetto che sia un pochino regolare quindi prenderò un centimetro da ogni margine poi con un tocco delicatissimo unisco i punti in videocamera non lo vedrete nemmeno e poi arrotondo gli angoli lo che avremo sarà spero lo vediate questo bene io metterò qui un alberello di Natale e qui la scritta buone feste buon Natale adesso vedremo l'alberello di Natale sarà largo 4,5 cm che vado a segnare proprio sulla mia postcard è alto 6,5 cm voilà e cancello tutto ciò che non voglio si veda userò per la mia card la tecnica della one stroke painting quindi la pittura ad un solo passaggio in modo che tutti voi veramente possiate farla con agevolezza prendo due tonalità di verde e una punta di bianco se invece volete un albero più scuro prenderete due tonalità di verde e una punta di nero con un pennello da poco conto diluisco il colore che deve essere abbastanza liquido cremoso tendente al liquido ok deve essere così deve scivolare giù il colore ma avere ancora una consistenza cremosina sciacquo il pennello e preparo anche gli altri due colori imbibisco tutto il pennello con il verde questo qui mediano e qui lo carico bene quindi prendo una punta di bianco e una punta di verde scuro e in questa parte carico ben bene il pennello ok adesso con tante U comincio a creare la prima balza del mio alberello partendo dal lato spostandomi più esternamente faccio una U due U tre U quattro U cinque U e vado così U dopo U così e la prima balza è fatta ricarico ben bene nel pennello e lascio un po' asciugare nel frattempo che sto caricando l'altra balza e ricomincio un po' più in alto con lo stesso lavoro seguendo la pendenza del mio triangolo quindi non si può sbagliare una U un'altra U U U U ora io sto staccando le varie U voi dovreste riuscire piano piano a farle consecutivamente e continuo a sovrapporre strati su strati e voilà il mio alberello è fatto ora faccio scrivo la traccia del mio buone feste ok senza essere troppo precisi tanto verrà tutto molto coperto e scelgo un colore che si adatti alla composizione io credo che userò il rosso caricato il mio acqua brush di acqua vado direttamente in pozzangherina qua a diluire il colore per quanto appunto lo desidero disciolto scriviamo il nostro buone feste e voilà il buone feste è scritto benissimo adesso continuiamo ad avvellire il nostro bigliettino e per farlo userò il 3d craft con cui borderò tutto e voilà questo adesso lo vedete è scuro ma diventerà subitissimo vedrete super dorato faccio anche la stellina decoriamo l'albero palline rosse yeah una bambina di due anni ragazzi non ci si può fare nulla e ovviamente i festoni il tratto sottile del glitter craft permette anche di ripassare sulle scritte lasciando ben evidenti anche i tratti sottili come vedete la card è finita lasciamola asciugare e facciamo in modo che il glitter sprigioni tutta la sua luminosità quindi vi lascio alle foto della card bella sbrilluccicosa e noi ci vediamo dopo visto che è graziosa la nostra cartolina non è un po' anni 70 come genere mi è piaciuta tantissimo farla è semplicissima la possono fare dai bimbi ai grandi certo il risultato sarà diverso ma chi se ne importa un disegno fatto dai bimbi è prezioso a prescindere da tutto rispolverate le nozioni di must rock che vi ho dato in questo video e cimentatevi in questa cartolina veramente di semplice realizzazione per fare la glitter pass il video lo trovate sempre qua insomma non vi manca nulla soltanto un po' di buona volontà e tanta creatività fatemi vedere le vostre cartoline vi metto qua sotto il link in cui potete trovare tutti i materiali il blocchetto postcard fabbriano credo possiate trovarlo in quasi tutti i negozi di belle arti perché è distribuitissimo bene che dirvi spero che questo video vi sia piaciuto la prima cartolina l'ho fatta un po' più semplice ora arrivano quelle un pochettino più macchino set e anche più divertenti quindi aspettatele qui nel frattempo regalatemi un bel pollice in su e una condivisione di questo video sulle vostre pagine facebook e venitemi a trovare anche su facebook su instagram e naturalmente sui miei altri canali ombretta e due cuori una cappa io vi ringrazio sempre per essere sempre così affettuosi e carini nei miei riguardi vi voglio un gran bene e sono felice di poter passare anche questa preparazione al natale insieme a voi perché la cosa mi rende veramente veramente il natale pieno di gioia quindi grazie per stare con me e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video una ombretta ed arte per te è tutto ciao alla prossima ragazzi vi voglio bene bene